Gli uomini del nucleo Ispettori Ambientali Comunali di Vasto, guidati da Eustachio Frangione, intorno alle 17 nel corso del servizio di vigilanza ambientale hanno notato quattro rumeni, che dopo aver divelto la parte posteriore dei tre contenitori per la raccolta di indumenti usati della umana, situati nei pressi della rotatoria della circomballazione estoniense a Vasto, nei pressi di Via del Giglio, stavano portando via degli abiti. Non appena i rumeni si sono accorti della nostra presenza, ha spiegato Eustachio Frangione, coordinatore del nucleo Ispettori Ambientali, i quattro uomini di età compresa tra i 25 e i 40 anni sono scappati a piedi, raggiungendo la loro abitazione in Via Sant'Anna. Frangione e i suoi uomini li hanno raggiunti e nel frattempo sono giunti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Vasto.